La Procura per i minorenni di Napoli ha aperto un fascicolo a carico di gnoti sulle aggressioni della baby gang ai danni di alcuni adolescenti della città. L'inchiesta è stata avviata dopo i casi di violenza denunciati alle forze dell'ordine. Sono almeno tre gli episodi al vaglio degli inquirenti, vicende consumatesi nell'arco di due settimane tutte intorno alle ore 19.20 lungo le strade del centro di Avellino. Le indagini sono condotte da carabinieri e polizia. Nel mirino degli investigatori, la tentata rapina denunciata da quattro ragazzini di 11 anni tra Via Terminio e Piazza Libertà, il passaggio subito da un adolescente a Cegli di 11 anni a inizio di corso Vittorio Emanuele. L'aggressione è segnalata a una pattuglia di carabinieri da due ragazzine di 13 anni. Ha certamente in corso anche per ricostruire la dinamica di un quarto episodio che sarebbe avvenuto nella villa comunale, vittima del branco, anche in questo caso un ragazzino di 11 anni. Dall'identikit fornito dalle vittime ad agire sarebbe la stessa baby gang, una banda di minorenni, probabilmente di qualche anno più adulti, con addosso abiti griffati. In almeno due dei casi denunciati, il capo branco avrebbe impugnato un cortellino per intimidire gli adolescenti. In questi giorni le forze dell'ordine hanno acquisito dei video registrati dalle telecamere in città, filmati ripresi dagli obiettivi della Contro Room, che è sede presso il comando della Polizia Municipale, e di alcuni esercizi commerciali dotati di telecamere situati presso i luoghi dove si sono verificati i casi di aggressione. Il tentativo è quello, attraverso le immagini, di identificare i bulli entrati in azione, di risalire ai loro genitori. L'escalation di violenza ha provocato paura e tensione nel capoluogo. I genitori dei bambini, aggrediti dopo aver firmato le denunce, invitano le forze dell'ordine a intensificare i controlli lungo le strade. Sull'escalation di violenza, che ha scosso la comunità, la procura dei minori di Napoli, ha quindi aperto un'inchiesta sull'allarme baby gang. In città gli inquirenti lavorano per risalire responsabili ai loro genitori, indagini tese anche a ridare sicurezza e fiducia a quegli adolescenti che dopo le aggressioni subite sono rimasti sotto shock, dei risi picchiati e minacciati con un coltello da un branco che dalle testimonianze di alcune vittime provava anche gusto a seminare terrore.